La Commissione Europea ha definito fondamentali per l'accesso all'ingresso nel mercato del lavoro, qualsiasi che sia il lavoro e tra questi, guardate la cosa molto interessante, c'è questa competenza che si chiama sviluppare, che è la consapevolezza e la capacità di espressione culturale diffondendo l'amore per la cultura dell'arte. Questa non solo sviluppando conoscenza, ma anche facendo cimentare i ragazzi ed esprimersi in alcune delle atti, in particolare quelle che noi riteniamo chiaramente più vicine alla musica, ma ne abbiamo anche ampliato rispetto anche a altre atti audiovisibili. Quindi ci sarà la sperimentazione, vi dico perché siamo stati molto anche qui, abbiamo rischiato, perché quello che si mette in piedi è un corso di formazione professionale di 600 ore, che dà la qualifica di tecnico del suono. Questa esigenza viene fuori da un pauridogno delle comprese che è diffuso in tutta la regione, ma che in particolare potrebbe trovare delle grandi prospettive, sì, nella regola di Ovesti e anche in tutti gli eventi in cui Patrizia si diceva all'interno dell'auditorio. Questo non vuol dire limitare le prospettive di lavoro all'interno della città di Navello, ma in tutta la regione. E questo è importante perché le risorse messe a disposizione della regione sono molto limitate ed è importante che questo sarà possibile fare 600 ore solo perché i partner cofinanzieranno questa attività, altrimenti non sono questi gli importi con cui si fa un corso di qualifica. Questo lo voglio dire perché la generosità con cui ci si è messi, non mettendo soldi, ma mettendo a disposizione competenze, segni, spazi dal Comune, dai giovani dell'Associazione, la Fondazione Ravello EF e il Centro Europeo, tutti sono disponibili di fare in modo che almeno si abbia anche una qualifica per chi partecipa all'attività. Questo sarà lanciato un bando al più presto e nei 24 mesi, adesso nella riunione che seguirà decideremo, io diciamo, anche la linguistica per poter...